La fine dell'anno è tempo di bilanci, anno nuovo, vita nuova. Ma in realtà tutti i fini di settimana sono un po' come la fine dell'anno, perché gli obiettivi sono sempre gli stessi. Mi chiamo Simona, sono una filmmaker e questa è la mia top 5 dei 5 buoni propositi del lunedì. La mia è una vita sedentaria. Per andare al lavoro sono seduta, quando lavoro sono seduta. Per mangiare sono seduta, per rilassarmi sono sempre seduta. Da lunedì devo fare movimento. Rovescio! Oh, si chiama cance! Quello è bello! Ottimo, allora ci vediamo davanti al cinema. Sì, va bene. Fai presto che non c'ho voglia di vedere il film già iniziato. Ehi, sono pronta, non ti preoccupare. Sì, ma non fare come al solito, non farmi aspettare che è proprio una brutta zona quella. Eh, Rebecca, mi sto mettendo la giacca ed esco! Da lunedì sarò puntuale. Che pappalle! Secondo voi perché non chiamano Big? Sarà anche un pezzo grosso. Ehi, un pezzo grosso, perché altro? Guarda, che mi se la mani al curry? Ancora guarda Sex and the City. Da lunedì mi do la cultura. Oh, ma sto cieco! Signorina, ma veramente lunedì i teatri sono chiusi? Oh, eh! Da lunedì mi scrivo al corso d'inglese. So, I know you won't learn English. I will be your English teacher. What's your name? I am You are Mare, profumo di mare! Dopo un sabato ho votato all'alcool? Guaiolo, acqua bolle! E' bella, oh tu! E dopo la scampagnata domenicale? Sono pronti, Cascagna! Ma voi sei scassata a bilancio? C'era meglio la bilancia quella con i tuoi piatti? Da una parte ci metti la vacca, da una parte ci sei tu e vedi queste cose elettroniche. Allora, c'ho il pigiama pesante, sono quei 5-10 kg in più che vanno sulla bilancia pure... Da lunedì mi metto a dieta. E meno male che non sono fumatrice! Buon appetito! Ehi tiene siete UP! C'è tonio qui nel mio punto il mio punto i tuoi piatti! Dove se tutte io E ai più !